Innanzitutto buonasera a tutti dallo staff e le cementi, questa sorpresa per i suoi 40 anni di Gigi, facciamo un applauso, e per i 50 anni del signor Antonio Basile che compie il suo compiano dei 50 anni. Quindi mi alzo, che fosse tardi, io cerco di tenere, perché se anche non ti ho bastati, io continuerò, continuerò. Ok, mi gente, ora continuiamo, pero con lo que es, ok, sensual, un movimento sexual, un movimento sexy, Grisci! Grazie a tutti. Grazie. 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 Le vostre mani al cielo Vogliamo prendere le vostre mani al cielo Ascolti, sì! Mi danni queste mani Contramanano le mani Opa! 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 열심히 Siamo Resto A percepare il consente Facciamo Siamo Grazie a tutti. E qui me lo mettere su le mani e saltellare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.